Malta sta bloccando l'istituzione della procura europea non proponendo un candidato idoneo per l'organismo. Lo ha detto la prima procuratrice europea Laura Codruta Covesi che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Euronews. Senza i pubblici ministeri europei non possiamo avere un collegio e senza di questo non abbiamo regole procedurali e un quadro normativo con cui dovrebbe funzionare la procura europea. Questa procedura è stata ritardata perché uno Stato membro, Malta, non ha proposto abbastanza candidati ammissibili. Di conseguenza da dicembre l'intero processo è stato ritardato. Una volta funzionante la procura sarà in grado di perseguire i reati connessi al bilancio dell'Unione Europea in 22 paesi che hanno aderito al sistema. La procura non indagherà su piccoli casi, esaminerà principalmente casi relativi a persone che ricoprono funzioni chiave o ricchi uomini di affari, poiché stiamo parlando di criminalità legata a frodi dell'IVA superiori a 10 milioni di euro, quindi non tutti possono commettere tali atti. Mi aspetto di ricevere attacchi contro l'istituzione e i pubblici ministeri. Covesi ha guidato l'Agenzia Anticorruzione della Romania fino al 2018, quando è stata rimossa dal governo. Pensa che la procura cambierà la cultura dello Stato diritto in Europa. Negli ultimi tre anni la giustizia rumena è stata costantemente sotto attacco. I pubblici ministeri e giudici stavano affrontando diversi casi di molestie. Sono state avviate numerose azioni disciplinari e sono stati aperti diversi casi menali contro pubblici ministeri e giudici. L'indipendenza della giustizia è stata costantemente attaccata e colpita da modifiche legislative. l'altestate.